Andrea, sul podio la settimana scorsa e sul podio anche in questa finale, insomma un buon modo per iniziare la stagione no? Sì, direi che la stagione è iniziata alla grande, non ce l'aspettavamo neanche noi e speriamo che continui così E sempre vedere un privato sul podio in queste gare, tra l'altro molto importanti Che sensazione ti dà? Soprattutto dato che tu hai vinto anche la KZ due anni fa il campionato europeo Sicuramente adesso facendo tutto da solo è una gran bella soddisfazione, ringrazio chi mi aiuta col materiale e sono proprio felice E le prossime gare di questa stagione dove ti troveremo? Mi troverete a Franciacorta per il VSK e poi europeo mondiale Beh dai insomma, magari ci reggaderai qualche altra gioia no? Speriamo Grazie, con gratulazione Grazie a te, ciao